Diffuso il pensiero per esempio della impossibilità di conciliare il lavoro e la maternità perché non c'è ridistribuzione del lavoro di cura, è tutto sulle spalle delle donne, delle lavoratrici, perché c'è un mercato del lavoro che discrimina e ancora per molte donne la condizione è quella della precarietà. Indicatori di un cammino verso l'uguaglianza fra uomini e donne nel mondo del lavoro ancora a lungo, secondo Susanna Camusso, intervenuta oggi all'Eccelsior di Sondrio al convegno dal titolo Donne tra differenze di genere e indifferenza, organizzato dal coordinamento Donne CGL. Il tema è quello di combattere le discriminazioni, per combattere bisogna vederle, leggerle, quindi sapere che per esempio c'è ancora un grande tema di molestie sui luoghi di lavoro, di ricatto sulla propria condizione familiare e poi c'è un tema che è quello di non continuare a parlare di donne che devono conciliare con loro stesse, per cui comunque la loro vita deve essere distribuita unicamente tra il lavoro di cura e il lavoro per il mercato, e cominciano a parlare seriamente di redistribuzione invece del lavoro di cura. Secondo Camusso, da questo punto di vista la mentalità non è mutata in positivo, anzi resta una profonda battaglia culturale da condurre. Si ricominciano a fare ragionamenti sull'idea che le donne devono stare a casa e se proprio devono magari entrare nel lavoro e non c'è un'idea di lavoro come realizzazione di sé. Se è vero che vi è un lieve aumento dell'occupazione assicurano dal coordinamento Donne, è anche vero che è aumentato il lavoro cosiddetto più povero, appannaggio soprattutto dell'universo femminile. Sono aumentati i rapporti di lavoro a tempo determinato, rapporti ultra precari, e rapporti occasionali talvolta, e è aumentato anche il ricorso al part-time. Part-time involontario, però, qui le donne sono indotte ad aderire, ciò che determina un futuro previdenziale e contributivo più povero. Aspetti emersi nel corso del convegno, introdotto da Carla Bongio, della segreteria SPI Pensionati, e da Guglielmo Zamboni, segretario generale CGL Sondrio, che ha chiesto un minuto di silenzio per le donne kurde, cilene, vittime delle recenti violenze. Presente anche la segretaria regionale CGL Monica Vangi. Nel dibattito ha trovato spazio anche il tema delle quote rosa, che in ambito economico è risultato avere il suo perché. I CDA delle società quotate in borsa hanno attualmente una quota un pochino sopra quella prevista per legge, quindi questa introduzione delle quote ha funzionato. La percentuale di presenza femminile è salita in pochi anni dal 15 al 36%. Resta la difficoltà delle donne ad entrare nella stanza dei bottoni. A Susanna Camusso abbiamo chiesto se può essere in parte condizionata dalle loro stesse paure. Spesso quelle ritrosie sono in realtà delle forme di difesa, non sono come dire un desiderio di essere in quella condizione, quanto il provare a darsi una ragione del fatto che trovano solo ostacoli. Basta pensare alla fatica che è per le lavoratrici che magari abbandonano dopo la maternità poter rientrare nel mondo del lavoro. Al termine del convegno lo spettacolo di Carlo Albe, l'ultima apre la porta con Federica Ferro, cui ha assistito anche la donna vittima di femminicidio nel posto occupato, allestito in sua memoria in sala.